Anche Marisen, ospite della serata in omaggio alla sicilianità, sabato 24 luglio in piazza Castello a Castellammare del Golfo. Marisen, domenica 23 luglio si è stata chiamata per onorare con le due doti canore questa bella serata dedicata alla sicilianità a Castellammare del Golfo. Per me è un grande onore, proporrò sempre un mio repertorio comunque che va sempre un po' sul pop rock, anche perché ci sarà una bella band alle mie spalle di giovani musicisti con tanta voglia di fare, però non mancheranno sicuramente i brani siciliani della nostra bella Sicilia. È una serata bella, organizzata bene con dei talk show, organizzata da siciliani liberi, c'è il professore Massimo Costa che nella nostra isola, ma non solamente, è un luminare per quanto concerne le nostre tradizioni, il nostro essere siciliano. Ci contraddistingue secondo me sempre e comunque per il nostro calore, per il nostro grande cuore e per la nostra grande disponibilità. Fra musica, talk show, domande, vi sarà l'intrattenimento giornalistico. L'ora 21 a Piazza Castello, appunto, a Castellammare del Golfo, in questa location davvero splendida. È una serata davvero piena di grandi artisti, ci sarà da divertimento con Ivan Fiore, insomma, e altri cantanti anche di Castellammare che si esibiranno. E ci sarò io con la mia band, che devo dire, fantastica, di giovani. Piazza Castello, lato matrice, perché esserci? Si parlerà della nostra Sicilia, canterò Brucia la Terra, quella sera, proprio dedicato a quello che un po' sta succedendo in Sicilia, che brucia in continuazione, davvero non ne possiamo più. Non mancate perché sarà una serata di grande cultura, di splendide poesie, di tanto bel canto e tanta bella musica, quindi vi consigliamo davvero di venire a passare una splendida serata. Grazie a tutti.